buongiorno a tutti 26 settembre 2019 svegliati alessandria siamo qui all'inizio di corso roma buongiorno professore ciao piero cosa vogliamo far vedere i nostri amici da casa casualmente non tanto passando qui da piazzetta della rega questo nuovo arredo urbano è molto interessante no si tratta di un contenitore metallico dove potenzialmente i cittadini educati vorrebbero poi spegnere le sigarette le cicche e buttare le cicche dentro il cestino vediamo che c'è anche uno spazio per buttare le cicche c'è uno spazio per buttare una feritoia per buttare i rifiuti bottigliente cartacea eccetera poi ne abbiamo ne abbiamo altri dislocati qua attorno uno lì in fondo un altro di là va benissimo cosa dire fabio luigi beh non si tratta si tratta adesso di educare un po il cittadino di color umano basta poco no fare due centimetri in più di sforzo e buttare la cicche di sigretta ora non hanno più scuse no professore ecco non hanno più scuse era una cosa che effettivamente mancava ed era piuttosto incivile vedere le persone e buttare le cicche per terra ma d'altra parte io che percorro noi che percorriamo spesso anche queste vie del centro non abbiamo mai visto io non ho mai visto un luogo dove spegnere non per giustificare per carità però in effetti questa è una è una iniziative che sono piccole iniziative che è positiva che è positiva certamente speriamo in un buon riscontro da parte dei nostri concittadini va bene un saluto a tutti che tutto vada sempre il meglio certo un saluto a tutti i nostri sostenitori ciao